e in vantaggio si porta pertinace nei confronti di Hot Type segue in terza posizione all'interno le Real Magic con all'esterno Gold Tower quindi Tiki Taka davanti a Soner Red e Tassa Patrimoniale Cavalli ora lungo la curva posizioni invariate con pertinace in vantaggio Hot Type al suo attacco dietro i due per linee esterne avanza Gold Tower seguito all'interno da Tiki Taka quindi le Real Magic ed in coda Soner Red siamo ora in retta di arrivo con pertinace che sta allungando Hot Type lo attacca centropista si propone Tiki Taka davanti a Gold Tower e all'esterno di tutti Soner Red siamo a trecento dal palo con pertinace attaccata a fondo da Tiki Taka che sta passando ma all'interno pertinace cerca di reagire più a largo avanzano Soner Red e Gold Tower nel tratto finale c'è lotta fra Tiki Taka e pertinace lotta incertissima con pertinace che ritorna all'interno su Tiki Taka poi Gold Tower e Soner Red rivediamo le immagini con Carletto fiocchi che al col numero uno pertinace è riuscito nel finale a ribaltare la situazione che sembrava a favore di Tiki Taka ma nel tratto finale all'interno è ritornata in vantaggio pertinace con il numero uno sul quattro di Tiki Taka mentre al terzo posto termina il sei di Gold Tower davanti al sette di Soner Red quindi arrivo ufficioso probabile della quinta di Napoli uno quattro sei